Ma perché il nostro buon capuzzo aveva scambiato il Paschi valore per il Paschi il calore, fu sostituito con il nostro innecifrabile Maurizio Fata. Buon appetito! 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 E credo che riesco a fare anche per te, credo proprio che mi spegni il caffè. E questo è un po' grande per te e piccolo per un pezzo, non riesco a sfrigionare le mie voti. Perché il problema è in scena e penso che raggiungerò quel posto di comando. Stai sognando un po' di comando. Direttori come me. Come vedo, non c'è lei. Forse è meglio ad apprendere quel caffè. Ma no, meglio che ci vai tu. Perché uno come me, state certi, può fare anche a meno del mio caffè. Perché sono direttore e mi chiamo Cuglione. Perché sono direttore e mi chiamo Cuglione. Si l'abbiamo capito, si l'abbiamo capito. E adesso il nostro bomber, un attaccante di peso, un vero schiaccio sassi. Il bulldozer del gruppo, ma per tutti noi, il simpatico, carina. Cuglione. 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 Sì, perché non mi amante, non mi amare a contatticare, non mi amare a contattare, non mi amare a che mangiare! Grazie.